Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei il cui sangue filato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici Prendendo la parola Gesù disse loro Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No io vi dico, ma se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo O quelle diciotto persone sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise Credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No io vi dico, ma se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo Diceva anche questa parabola Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna E venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò Allora disse al vignaiolo Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo Taglialo dunque, perché deve sfruttare il terreno? Ma quello gli rispose Padrone, lascialo ancora quest'anno Finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime Vedremo se porterà frutti per l'avvenire Se no, lo taglierai Finché gli avrò messo il concime Grazie a tutti